14 pallavoliste, 22 anni, l'età media. Sono gli atleti della pallavolo Lecco Alberto Picco che scenderanno in campo nel palazzetto del Bione per la stagione 2023-2024 del campionato di Serie A2. Riconfermato alla guida Gianfranco Milano, ormai da diversi anni coach della prima squadra. Con la Picco ormai si è creato un bel feeling e quindi è facile instaurare subito nuovi progetti per cui anche quest'anno ci siamo trovati in sintonia su quello che può essere il tipo di campionato da fare e per necessità o per scelta abbiamo dovuto cambiare tante ragazze. Questo sarà uno stimolo per noi perché vogliamo ricreare di nuovo un gruppo vincente dal punto di vista sia come squadra, come risultati e anche dal punto di vista proprio morale. Sordiamo con un'anno promossa che è già una nostra conoscenza della B1, Costa Volpino. Sordire in casa sicuramente è una bella responsabilità però ci faremo trovare pronti per l'inizio per salutare il pubblico e augurarsi insieme un po' il campionato. Solo due le atlete riconfermate dal team dell'anno scorso, l'alzatrice Rebecca Rimoldi e la centrale Federica Piacentini. Ma ci sono tutte le premesse per scendere in campo l'8 ottobre con un gruppo affiatato. Per un atleta vedere la fiducia della società riconfermata per un altro anno significa non tanto di più. L'anno scorso è stata una bella stagione, eravamo un bel gruppo, abbiamo lavorato sodo, lo staff tecnico è cambiato di poco in realtà, qualche modifica formale. Quindi sono convinta che potremmo fare un gran bel lavoro. Ci stiamo iniziando a conoscere un po', ovviamente è difficile parlare, non si può parlare ancora di squadra, come ha detto Gian, è più un gruppo di lavoro. E dobbiamo cercare un po' di coesione, però secondo me possiamo, abbiamo tutte le carte per far bene insomma. Secondo me abbiamo alzato tanto il livello in questi ultimi anni come Serie A2 in generale. Siete pronti ad affrontare tutti però? Assolutamente sì. Gian al telefono, quest'estate mi ha trasmesso entusiasmo, voglia di lavorare. Ho delle buone sensazioni, il gruppo è positivo, l'ambiente di lavoro anche, c'è tanta disponibilità che secondo me è fondamentale nella parte di preparazione. Che cosa ti auguri per te stessa per questa stagione? Innanzitutto di crescere ancora tecnicamente, cercare di rubare il più possibile da consigli dell'allenatore, da ragazze che hanno tanta esperienza e poi di fare un buonissimo campionato perché secondo me ci sono tutte le carte per farlo.